All'abate ed ai monaci benedettini di questa antica comunità, ai religiosi e alle religiose, ai laici che rappresentano l'intera comunità diocesana di Roma. All'abate ed ai monaci benedetti di questa antica comunità, all'abate ed ai monaci benedetti di questa antica comunità, all'abate ed ai monaci benedelli di questa antica comunità, all'abate ed ai monaci benedetta, Grazie a tutti.